Tutto il fascino ed il mistero dei grottoni. Tra le absidi della cattedrale di Anagni, in un luogo sotterraneo, troviamo un sito che porta con sé meraviglia e tanti interrogativi. A quale funzione asservivano? Cosa ospitavano? Domande che rimangono aperte vista la scarsità di documentazione. Sabato prossimo, l'ingresso esclusivo agli iscritti FAI. I cosiddetti grottoni o grottone della cattedrale è un monumento, diciamo, piuttosto nascosto. Un monumento poco praticato, mai praticato. Io personalmente ho avuto modo di vederlo qualche anno fa, parecchi anni fa, ed era pieno di terra. Ecco, questa è una struttura, forse la struttura più misteriosa di Anagni, perché non abbiamo una documentazione archivistica precisa che ci parla, diciamo, di questa. È conosciuta sicuramente con il nome di monostalle o stalle di Bonifacio. Siamo nel Colle a Nagnino, siamo nella vicinanza, dirette vicinanze della cattedrale, siamo a due passi, si va per dire, a 100 metri, linea d'aria, dal palazzo di Bonifacio VIII. E quindi la tradizione lo chiama le monostalle. Le monostalle, o più comunemente grottone. Diciamo che la costruzione è piuttosto ardita, molto interessante. È lo slanzo, diciamo così, che dal punto di vista architettonico, questa struttura gotica, gli archi gotici già portano in alto, già ingentiliscono una struttura, ma qui, ripeto, sono molti gli interrogativi che noi abbiamo e soprattutto questo mistero che ha legge intorno. Come è facile vedere, siamo sul tufo, siamo addossati al tufo, abbiamo anche una struttura che poi nei secoli è stata adoperata per vari usi. Non ho avuto mai la possibilità di trovare una documentazione. Possiamo solo fare ipotesi e io credo che l'ipotesi più importanti possano essere che intanto era una struttura di prestigio. E lo dice la stessa architettura, lo dice l'aspetto di questi grandi archi. Sicuramente è stata adoperata come dependenza della cattedrale. Forse le stalle, perché è chiamato monostalle? Era di vita le stalle anticamente? Poi come è stata adoperata la struttura? C'è un forno, come abbiamo modo di vedere, abbiamo un forno. Ecco, questo forno qui presuppone che qui abbiano abitati o dei fattori o qualcuno che governava l'orto della cattedrale perché siamo nella zona, diciamo, adiacente alla cattedrale dove, tra l'altro, anche nel periodo antico c'erano questi orti. Sindaco, le giornate fa riservano un'autentica sorpresa per i visitatori. Quella del Grottone, una città sotterranea, quella di Anagni, diciamo, del tutto inedita qui. Questo sorprende in parte anche un po' noi perché sappiamo che Anagni è ricca di tesori anche sotterranei. Ecco, queste giornate del FAI ci aiutano anche a scoprire questa città. Quindi noi siamo grati al FAI per aver scelto Anagni sicuramente come sito importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale. E questo è anche per noi Esprone per andare a scoprire, a riscoprire quello che abbiamo di bello qua, scoprirlo in tutti i suoi sensi, anche nelle sue funzioni antiche, in quello che è stato e in quello che non è stato. E per questo noi ci impegneremo anche come amministrazione nel portare questa città a disposizione di tutti e alla fruizione di tutto il grande pubblico. L'importanza che rivestono queste giornate FAI per far conoscere un'Anagni anche inedita. È fondamentale perché quello che teniamo noi come amministrazione è proprio quello di rendere visibile Anagni a tanta gente, a tanti turisti. E quindi le giornate FAI ci danno questa opportunità, quella di far conoscere le bellezze artistiche e anche paesaggistiche dei dintorni. Quindi ecco, un'ottima opportunità che abbiamo logicamente tenuto in conto. Intanto ringraziamo anche la delegazione del FAI di Frosinone, la delegazione provinciale, che nel chiederci l'opportunità di venire ad Anagni ha creato per noi questa grande opportunità. Una Anagni inedita quindi, quella che si potrà visitare in occasione delle giornate FAI di primavera organizzate per il prossimo fine settimana, il 19 e 20 marzo. Cinque siti aperti per l'occasione, le sostruzioni sillane, le cantine di Palazzo Gatti, gli arcazzi, una singolare costruzione d'età romana, San Pietro in Vines, un monastero appena fuori la scintamuraria e, come detto, i grottoni della cattedrale. Lo scopo del FAI è far conoscere per amare e quindi poterlo conservare per i posteri. E questo anche perché noi abbiamo istruito e siamo orgogliosi di averli nella nostra delegazione, gli apprendisti ciceroni. e sono dei giovani che devono imparare dalla scuola e dai loro insegnanti ad amare il loro territorio perché solo amandolo lo possono proteggere un domani dall'incudio. E saranno loro le loro guide, sono il nostro fiore all'occhiello, così come i giovani FAI.